E adesso lasciamo finalmente la parola a Pietro Buffa. Eccoci, Pietro Buffa. Adesso un attimo che ti presento. Allora, Pietro Buffa, biologo molecolare specializzato in indagini sul genoma umano. Ha svolto per 15 anni attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biomediche di Catania, durante i quali viene insegnato del premio Marie Curie, autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche, da diversi anni conduce indagini indipendenti che collegherebbero l'evoluzione umana e le origini della nostra specie, Homo sapiens, alla controversa questione legata alla domesticazione. Si tratta appunto di un processo per il quale lo stesso Darwin non amava parlare. Nel 2015 Buffa pubblica un primo saggio sul tema, dal titolo I geni manipolati di Adamo, il libro bestseller, che vede oggi anche una traduzione in lingua inglese. Inoltre è autore insieme a Mauro Biglino del bestseller Resi umani. Pietro Buffa è anche vincitore del premio letterario Equilibri. Ok, grazie agli organizzatori intanto per l'invito, grazie a tutti voi per essere qui oggi così numerosi di domenica. Evidentemente c'è da parte di molte persone la necessità di comprendere dove stiamo andando come società, cosa sta succedendo alla società moderna. Perché molto spesso notiamo come il sistema riesca a mettere in atto tutta una serie di progetti, di direttive, che sono ovviamente più o meno discutibili, come abbiamo visto negli ultimi anni, più o meno discutibili, quasi sapendo di poter contare quasi su un innato assoggettamento della popolazione. Cioè è come se fossero estremamente sicuri che la popolazione accetterà passivamente le loro decisioni. E quindi perché non alzare l'asticella piano piano e vedere fin dove possiamo spingerci. Ecco, ovviamente quando si parla di manipolazione delle masse, entrano in gioco diversi fattori come potete ben immaginare. Uno tra questi è appunto quello dell'informazione, l'informazione che viene passata al popolo, che viene passata al pubblico. Questo è molto importante perché se noi abbiamo a che fare con un'informazione che è confusionaria, perché si dice tutto e il contrario di tutto, lo abbiamo visto in questi anni, è parziale o addirittura è falsa, ecco che allora il popolo si comporta, in logica non ci dobbiamo stupire, il popolo si comporta come una bandierina al vento. E non dimentichiamo che noi possiamo vantare il quarantaquattresimo posto nella classifica, questi sono dati aggiornati, nella classifica della libertà di informazione, della libertà di stampa. Cioè l'Italia vanta un bel quarantaquattresimo posto. Quindi alla luce di questo possiamo fidarci di tutta, o perlomeno di gran parte, dell'informazione che viene veicolata nel nostro paese? Assolutamente no. Chi si può fidare è la Norvegia per esempio, che occupa i primi posti in classifica e beati norvegesi, che possono usufruire di un'informazione chiara, onesta e quanto mai puntuale. Bene, questa è una parte che però io non mi occupo di questa parte, io ovviamente come potete vedere dal titolo, io mi occuperò di un altro aspetto importante nella manipolazione delle masse. Perché è possibile che tutta una serie di comportamenti che la società moderna manifesta siano radicati nella nostra biologia, cioè abbiano un'origine profonda e in qualche modo collegabile alla nostra evoluzione, all'evoluzione umana. Ecco, perché se così fosse, ovviamente noi dobbiamo fare i conti con una predisposizione da parte della nostra società o di gran parte della nostra società verso determinati comportamenti. E quindi non ci dobbiamo poi stupire moltissimo. Quindi il mio compito oggi è quello di portarvi all'interno dell'evoluzione umana o magari all'interno di alcuni aspetti dell'evoluzione umana, è un affascinante settore di indagine e di ricerca proprio per scoprire come un determinato processo è avvenuto durante la nostra evoluzione e alla luce di questo processo tutta una serie, l'homo sapiens, cioè la nostra specie, ha acquisito tutta una serie di caratteristiche comportamentali e non solo. Il processo si chiama domesticazione è un processo sicuramente come vedremo affascinantissimo se noi lo andiamo a analizzare bene e come si sta facendo in questi ultimi anni ma è anche un processo piuttosto controverso come potete ben capire prima Nicole diceva che neanche Darwin ne ha mai parlato ora vi spiegherò il motivo ma è un processo controverso perché attorno a questo processo di domesticazione possono girare poi tutta una serie di domande di aspetti che ovviamente l'ambiente accademico vuole evitare assolutamente quindi andiamo un po' addentriamoci un pochettino negli aspetti dell'evoluzione non possiamo ovviamente parlare di evoluzione senza citare almeno questo illustre personaggio Charles Darwin che penso tutti voi hanno riconosciuto tutti voi non fate fatica a riconoscerlo chi l'ha studiato a scuola chi ha letto qualcosa bene Charles Darwin nel 1859 propone alla comunità scientifica quella che era la sua interpretazione del cambiamento delle specie in natura mediante il processo della selezione naturale bene la comunità scientifica accetta di buon grado questo anzi il libro di Darwin era molto atteso accettano di buon grado questo quello che erano gli studi che lui proponeva e ovviamente Darwin mette all'interno di queste regole anche l'essere umano cioè l'essere umano non fa per la teoria evoluzionistica nessuna differenza rispetto a tutto il resto del regno animale e vegetale seguiamo le stesse regole ok? bene ora se tutti voi hanno sicuramente riconosciuto Darwin sono sicuro che pochissimi di voi riconosceranno quest'altro illustre personaggio Alfred Russell Wallace e stiamo parlando sempre di un illustre scienziato dell'epoca vittoriana siamo sempre nel Regno Unito bene Alfred Russell Wallace pensate un po' non è il primo arrivato Alfred Russell Wallace è il coautore insieme a Darwin della teoria evoluzionistica e ha un aspetto importante perché non solo il coautore cioè quello che insieme a lui ha sviluppato la teoria evoluzionistica ma Alfred Russell Wallace fu quello che per primo mise i collegò i puntini per poi svilupparla e li propose a Darwin Darwin all'epoca era uno scienziato molto più in vista rispetto a lui e ovviamente poteva diffondere più facilmente questo tipo di studi bene cosa succede perché molti di voi non hanno mai visto questo personaggio perché succede che un po' di anni dopo aver pubblicato il libro bene Alfred Russell Wallace fa un passo indietro e lo fa proprio a proposito dell'essere umano scrive una serie di lettere a Darwin sono tutte pubblicate queste lettere alcuni passaggi di queste lettere li ho pure messi all'interno del mio libro perché sono veramente assurdi lui propone dice chiaramente a Darwin dice guarda io riesco a conciliare molto bene quello che abbiamo fatto la nostra teoria con tutte le specie in natura ma con l'uomo non ci sto riuscendo ci deve essere stato qualche altro meccanismo in gioco che ancora ci sfugge ok alla luce di questa onestà apri di cielo non potevano proporre alla comunità scientifica per l'uomo qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto del creato benissimo e allora che cosa successe? successe che pian piano Wallace lo misero sempre più in ombra fino a scomparire addirittura cioè dire io ho visto dei libri di scuola dove di Wallace non se ne fa minimamente cenno oppure si accenna proprio in qualche trafiletto eppure stiamo parlando del coautore della teoria cioè dire di colui che anzi l'ha mise in piedi e ci sono oggi sapete benissimo ci sono i Darwin Days non ci sono certo i Wallace Days ok quindi proprio totalmente ovviamente escluso dalle nostre pagine non se ne parla non se ne parla più benissimo e allora oggi alla luce di 150 anni di teoria evoluzionistica allora abbiamo risolto tutti i problemi che affliggono diciamo la nostra storia biologica assolutamente no scienziati come Jan Tattersall che oggi considerato uno dei massimi esperti nella figura degli ominidi e curatore del museo di scienze naturali di New York in vari congressi in maniera piuttosto onesta ribadisce come siamo diventati esseri umani rimane una delle più grandi domande della scienza ok quindi non è come ci fanno credere leggendo i libri di scuola specialmente che da questo si passa a questo da questo si passa a questo da questo si passa a questo ma poi quali sono i meccanismi in gioco nessuno ce li sa dire ok quindi c'è un pochettino di anche per i grandi passaggi ok ci sono ovviamente tutta una serie di enigmi in gioco e quindi diciamo l'evoluzione umana rimane certamente enigmatica allora andiamo a fare un passo avanti e vi presento qui questo bel esemplare di scimpanze perché voi concorderete ovviamente sul fatto che noi siamo molto simili alle scimmie ok questo ovviamente l'abbiamo studiato a scuola ce lo dicono ce lo ripetono lo osserviamo tant'è vero che l'essere umano è inserito all'interno dello stesso gruppo generale dove sono inserite tutte le scimmie ovvero il gruppo dei primati ok perché condividiamo con le scimmie e in particolar modo con questo tipo di scimmie le scimmie antropomorfe e in particolar modo ancora con lo scimpanze numerosissime caratteristiche è innegabile ok pensate che noi condividiamo anche da un punto di vista genetico il 97% del nostro DNA è perfettamente uguale a quello dello scimpanze 97% perfettamente uguale significa che in quel 3% di differenze si nascondono i determinanti che hanno consentito all'essere umano di diventare ciò che è oggi quindi noi siamo qui oggi a parlare delle nostre origini dei nostri miti passati di divinità eccetera eccetera uno scimpanzee non potrebbe mai farlo e allora cosa è successo ci domandiamo ora se è vero che condividiamo sicuramente tantissime caratteristiche con questo tipo di scimmie attenzione perché è anche vero che ne condividiamo molte di più se invece di paragonarci con gli esemplari adulti ci paragoniamo con gli esemplari giovani ok appena nati o di qualche settimana questo è uno scimpanzè di due settimane questa foto rappresenta uno scimpanzè di due settimane non bisogna essere dei biologi per vedere che ha delle caratteristiche che sono nettamente più simili a quelle dell'uomo che al suo esemplare della sua stessa specie adulto ok e queste caratteristiche le ho descritte ampiamente all'interno dei libri insomma se volete approfondire c'è modo poi vi farò vedere come ma vediamone alcune sicuramente abbiamo come vedete una testa che è allineata alle spalle così come abbiamo noi esseri umani perché? perché il cucciolo di scimpanzè ha una conformazione alla base del cranio c'è l'inserimento della colonna vertebrale che si inserisce all'interno di un foro detto forame magnum che è piuttosto centrale alla base del cranio è piuttosto centrale come nell'uomo poi con il procedere con l'avanzare diciamo del tempo il passaggio all'esemplare adulto questo forame magnum retrocede ok quindi lo scimpanzè è costretto a posizionarsi più in avanti e appoggiare le mani a terra infatti se voi vedete alcuni video su youtube di piccoli scimpanzè quando hanno in mano qualcosa che camminano su due piedi in maniera molto agevole veramente molto agevole preferiscono più una vita terricola che alboricola contrariamente agli esemplari adulti guardate la testa tondeggiante il volume molto più grosso rispetto a poi quello che sarà il volume nell'esemplare adulto dove abbiamo l'osso frontale che sarà sfuggente l'osso occipitale sarà sfuggente quindi cambia totalmente l'anatomia proprio del cranio ma ancora nella faccia notiamo le arcate sopraciliari sono poco pronunciate abbiamo un setto nasale un piccolo setto nasale e il prognatismo che è tipico di tutte le scimmie cioè dire quella sorta di mascella e mantibola proiettata in avanti che hanno tutte le scimmie nei cuccioli è molto più ridotto e quindi questo fa assimilare un po' la faccia dello scimpanse sempre molto simile a quella di un bambino ecco questo è un po' la situazione quindi quando vi dicono sì noi somigliamo alle scimmie no noi somigliamo ai cuccioli di scimmia e attenzione questo è un passaggio fondamentale ok noi somigliamo ai cuccioli di scimmie allora vi rendete conto come partendo da questa situazione non da questa ma da questa situazione basterebbero veramente pochi aggiustamenti per andare a creare una forma umana ok ora la prerogativa qual è fondamentalmente che in un nuovo organismo questo nuovo organismo tra virgolette questo prototipo umano deve mantenere per tutta la durata della sua vita queste caratteristiche cioè non le deve perdere come fa lo scimpanse perché lo scimpanse poi le perderà tutte invece deve mantenerle per tutta la durata della sua vita e questo è quello che è successo nell'evoluzione umana arrivato a un certo punto i scimpanzè attenzione faccio una parentesi gli scimpanzè non sono i nostri progenitori sono dei nostri cugini evolutivamente parlando ma tre milioni di anni fa c'erano in Africa tutta una serie di scimmie ormai tutte estinte appartenenti al genere delle australopitecine che avevano dei cuccioli molto simili a quelli dello scimpanzè con queste caratteristiche che sono quelle alla base della nostra evoluzione ebbene a un tratto viene fuori il primo rappresentante del genere Homo circa 2,4 milioni di anni fa in Africa questo primo rappresentante del genere Homo in grado di mantenere anche nell'esemplare adulto tutte le caratteristiche tipiche dei cuccioli di scimmia questo esemplare viene dato il nome di Homo habilis primo rappresentante che addirittura viene dato questo nome perché era abile a costruire degli arnesi con cui poi che poi servivano per diciamo staccare la carne dalle carcasse di animali insomma ecco comincia a costruire alcune cose facendo capire che anche qualcosa a livello cerebrale era cambiato attenzione perché anche a livello cerebrale la scimmia piccola si ha molte caratteristiche in comune con l'uomo cioè dire ha un cervello intanto è molto più socievole rispetto all'individuo adulto e la socialità è una caratteristica fondamentalmente umana ok? noi siamo esseri socievoli ok? le scimmie piccoline sono più propense alla socialità mentre gli adulti sono più schivi tendono a starsene da soli non sono molto propensi inoltre anche la conformazione del cervello è più plastico cioè il cervello dello scimpanzo è piccolo ha una plasticità e quella plasticità significa che può apprendere meglio più plasticità si ha più si ha facilità nell'apprendimento e quindi il nostro cervello è un cervello plastico un cervello che si adatta che è proiettato all'apprendimento quindi vedete quante caratteristiche abbiamo in comune con le piccole scimmie bene e allora questo che vi ho appena detto questa diciamo prerogativa che vi ho appena detto quello di creare un organismo che riesca a mantenere anche da adulto tutte le caratteristiche del progenitore tutte le caratteristiche del cucciolo del progenitore si chiama nella scienza viene chiamata neotenia ok con questa parola neotenia identifichiamo proprio il mantenimento in un organismo adulto di caratteri presenti nelle forme giovanili di progenitori selvatici ci siamo fino qua? ok allora andiamo a fare un passo più avanti la scimmietta sta più dritta di me è pazzesco allora ora il problema che ci poniamo è sì allora qui fin qui tutto bello ma la neotenia è un qualcosa di presente in natura? cioè ci sono degli esempi di neotenia cioè è presente in natura questa condizione? assolutamente no cioè gli esempi di animali con caratteristiche neoteniche si contano sulle dita di una mano e questo apre un problema perché tutti gli organismi che oggi conosciamo eccetto alcuni piccoli insetti e alcuni anfibi che hanno una neotenia hanno sviluppato alcune caratteristiche neoteniche in maniera naturale ma negli organismi superiori nessun organismo in natura ha caratteristiche neoteniche a meno che a meno che non provenga da una evoluzione molto particolare che prende il nome di domesticazione e qui andiamo a parare il nodo cruciale di tutta la situazione cos'è la domesticazione? ecco la domesticazione è senz'altro un qualcosa ora vi farò vedere un pochettino alcune caratteristiche ma così come la conosciamo la domesticazione è un processo evolutivo intanto fissate bene in testa questa differenza perché è importante cosa vuol dire un processo evolutivo? la domesticazione è un processo che richiede tempo richiede generazioni per implementarsi quindi è a conti fatti un processo evolutivo cioè dire generazione dopo generazione chi subisce questo processo evolutivo acquisirà delle caratteristiche particolari quindi è un processo evolutivo tenetelo bene in mente così come lo conosciamo oggi è un processo che richiede due cose uno un intervento da parte di terzi cioè dire non abbiamo ora vi farò vedere non abbiamo nessun caso in natura di organismi che si sono autodomesticati e ora ne parleremo seconda cosa richiede anche che gli ambienti dove questi organismi si andranno a sviluppare siano abbiano delle caratteristiche particolari e sono tutte cose che ho descritto poi nei libri quindi gli ambienti di domesticazione li chiamo ok devono avere delle caratteristiche molto particolari ora vi rendete conto che alla luce di tutte queste cose che vi sto dicendo la selezione naturale postulata da Charles Darwin arriva non al secondo al terzo al quarto posto cioè dire non c'entra proprio niente la selezione naturale qui c'è un altro meccanismo in gioco e come vi farò vedere questo meccanismo è stato fondamentale affinché emergesse Homo sapiens allora per adesso stiamo quindi abbiamo acquisito questo genere di informazioni attenzione molto spesso si parla di domesticazione specie domesticata e specie addomesticata non sono sinonimi ok la domesticazione vi ho detto prima è un processo evolutivo che richiede tempo richiede generazioni l'addomesticamento è un processo di ammaestramento invece cioè io sto insegnando qualcosa a una specie a un animale ok è logico viene da sé che le specie domesticate cioè dire quelle che hanno subito domesticazione il processo evolutivo della domesticazione saranno più facilmente propense all'addomesticamento mentre le specie rimaste selvatiche non sono molto propense lo vediamo nei circhi nel circo quante volte vediamo tigri leoni che vengono addomesticati o meno si tenta di addomesticarli ma vedete come si comportano hanno sempre questa aggressività alla base e ovviamente ci sono stati anche casi dove ci sono state delle tragedie proprio perché l'organismo selvatico non è propenso all'addomesticamento non gli vuoi insegnare niente non gliene frega niente ok lì entrano in gioco tutta una serie di caratteristiche che il circense mette in atto tra cui il mangiare loro sanno che poi avranno un premio eccetera eccetera ma non gli puoi insegnare niente cosa molto diversa sono gli organismi domesticati ok quindi facciamo bene questa distinzione ok allora e quindi guardate qui mucche pecore cavalli conigli maiali e persino i nostri amici cani ovviamente sono tutti organismi domesticati sono organismi che non è stata la natura a selezionarli neanche dovrebbero esistere ma esistono fondamentalmente perché l'uomo li ha selezionati ha messo le mani ha guidato la loro evoluzione in qualche modo attraverso degli incroci selettivi ok incroci artificiosi quindi selezioni artificiose non naturali che hanno fatto sì che questi animali in questi animali emergessero tutta una serie di caratteristiche fenotipiche cioè dire dell'aspetto genetiche perché vengono anche modificati geneticamente e comportamentali proprio cose che prima non esistevano nei loro progenitori selvatici guardate qui per esempio questo qui questo è l'uro ed è il progenitore di tutti i bovini moderni allora l'uro è ormai estinto ma è un bovino che era circa il doppio rispetto di dimensioni il doppio rispetto al bovino moderno ed era molto selvaggio era molto 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 pericoloso eppure l'uomo è riuscito da questo da questo tipo di animale a ottenere la mucca che è tra gli organismi più pacifici di questo mondo ok quindi vedete come il processo di domesticazione è un processo che cambia veramente in profondità non solo l'aspetto dell'animale non solo la genetica perché la mucca poi ha un'altra genetica rispetto al loro ma anche il comportamento dell'animale e ora vi farò a piano piano arriveremo a questo prendiamo i cani per esempio i cani ovviamente li conosciamo meglio sono le specie domesticate per eccellenza ok quelle più rappresentative possiamo dire ce le abbiamo quasi tutti a casa ok sono carini il cane deriva il progenitore selvatico del cane oggi è chiaro che è il lupo selvatico il lupo grigio il lupo selvatico la domesticazione del lupo inizia in Medio Oriente circa 20.000 anni fa e poi si distribuisce in varie parti del mondo sulla base delle razze che poi vengono fuori ora pensate una cosa pensate che l'intervento dell'uomo sull'evoluzione di questi animali dei cani in 20.000 anni quindi che da un punto di vista evoluzionistico sono proprio un tempo brevissimo è riuscito a immettere in questi animali tutta una serie di modifiche a livello estetico comportamentale e genetico che mai si erano sviluppate in 35 milioni di anni di evoluzione dei canidi 35 milioni di anni di evoluzione dei canidi naturale quello che la natura ha fatto è il lupo in 20.000 anni tutte le razze che abbiamo oggi che differiscono nel comportamento nella loro predisposizione nel loro aspetto eccetera eccetera benissimo quindi vedete quanto è potente questo meccanismo evolutivo e allora abbiamo cosa hanno in comune tutte queste diciamo forme animali compreso l'uomo abbiamo tutta una serie di contrassegni di domesticazione cioè dire oggi noi sappiamo riconoscere una specie domesticata perché ovviamente riconosciamo tutta una serie di contrassegni di domesticazione che sono inseriti nei miei libri poi chi di voi avrà modo di approfondire vorrà approfondire ma ci sono dei contrassegni che ci fanno identificare che una specie è stata domesticata e questi contrassegni sono presenti in tutti gli animali domesticati e noi ce li abbiamo pure ovviamente ne abbiamo tantissimi contrassegni domesticati quindi ormai è innegabile che il nostro processo evolutivo non è stata la selezione naturale cioè il motore che ha prodotto Homo sapiens non è stata la selezione naturale ma è stato il processo di domesticazione ok tra cui c'è l'emergere della neotenia che dicevo prima questi caratteri infantili che vengono mantenuti ok ce li hanno tutti i cani quanti di voi chiamano i cani ma sono dei cuccioloni perché appunto derivano dai cuccioli di lupo ok quindi questa è una fase molto importante perché ho messo Darwin bene Darwin con tutto che Wallace lo aveva diciamo in qualche modo aveva aperto un po' a queste ipotesi dicendo stiamo attenti che per l'uomo ci deve essere in gioco qualche altra cosa lui Darwin non parlò mai nelle sue opere dell'essere umano come un essere addomesticato ovviamente per quale motivo i motivi sono fondamentalmente perché altrimenti la selezione naturale da loro postulata sarebbe venuta meno e sarebbe venuta meno proprio per l'essere umano non era proprio fattibile e ovviamente come ho detto prima la domesticazione mette in piedi tutta una serie di domande e di possibilità più o meno lecite più o meno accettate a livello accademico ma domande sicuramente lecite ok perché le ipotesi in gioco sono queste due non si scappa allora autodomesticati o domesticati da terzi non si scappa una volta che abbiamo chiarito oltre ogni ragionevole dubbio che l'uomo è una specie domesticata perché ha dei contrassegni di domesticazione quindi ha subito questo tipo di evoluzione le domande sono queste due alla base ci sono queste due domande ebbene sono tutte e due lecite queste domande tutte e due bisognose di indagini che cercheremo di fare io adesso ho lanciato la palla in questi anni come biologo per questo tipo di indagini che io sto indagando fondamentalmente come sapete quel tipo di ipotesi e fortunatamente sto vedendo che altri colleghi si stanno interessando a questo tipo di informazioni e mi stanno proponendo tutta una serie di dati interessanti che svilupperemo addirittura in un terzo libro che mi auguro possa uscire fuori a Natale per adesso non posso dirvi altro comunque autodomesticati invece l'autodomesticazione è quello che la scienza ufficiale diciamo ci propone non potendo negare che l'uomo è un essere domesticato e ha subito questo processo evoluzionistico e non potendo ammettere che ovviamente sulla terra ci sia stata la presenza di qualche entità che in qualche modo ha messo mani così come l'uomo oggi mette mani nell'evoluzione di tantissimi organismi allora l'unica cosa che resta è che l'uomo si sia autodomesticato ovviamente questa possibilità è a mio avviso fantascienza pura fantascienza primo perché non abbiamo nessun altro esempio in natura di una specie che sulla base di un processo di autodomesticazione abbia sviluppato tutti i caratteri fisici comportamentali e genetici che ha sviluppato l'essere umano o le specie domesticate dall'essere umano non esiste in natura non ci sono esempi inoltre queste caratteristiche da domesticato escono troppo precocemente nell'evoluzione umana cioè già dal primo rappresentante del genere omo cioè omo habilis omo habilis era pieno di caratteristiche neoteniche e quindi pensare che le scimmie dell'epoca abbiano attuato una selezione specifica per far sì che emergesse un ominide con determinate caratteristiche la vediamo un po' dura giusto? esatto la vediamo un po' dura anche perché voglio dire non avevano l'intelligenza diciamo superiore rispetto a uno scimpanse modello quindi la vediamo un po' dura dall'altro lato invece questa ipotesi dovremmo ammettere che la terra sia stata colonizzata in epoche remote così come ci dicono molti studiosi sia stata colonizzata da entità che in qualche modo sono riuscite ad applicare questi processi se non anche altri si va poi sull'ingegneria genetica ma comunque anche il processo di domesticazione stesso e quindi grazie a questo processo l'evoluzione umana è stata in qualche modo guidata in un senso ben preciso ora chi è che propone questo tipo di ipotesi questo tipo di ipotesi la propongono come ben sapete oggi abbiamo avuto ne abbiamo parlato con Victor ne abbiamo parlato con Marco ne abbiamo parlato con Susi e la propongono degli studiosi fondamentalmente dei testi antichi che ci dicono che sono concordi nel riferirci che alla luce dell'analisi dei testi antichi possiamo estrapolare delle informazioni in tal senso cioè dire come se tutti i popoli del passato in qualche modo ci parlano della presenza di questi esseri sulla terra e come diceva Victor di una presenza reale concreta Victor prima ha detto una cosa importantissima quando gli dei camminavano sulla terra con gli uomini quindi erano proprio concrete queste presenze questo almeno si estrapola dai testi e quindi questi studiosi propongono che questi appunto queste entità abbiano in qualche modo messo mani nella nostra evoluzione e quindi diciamo si arriva a parlare della creazione dell'uomo ok quindi adesso noi diciamo da un punto di vista scientifico stiamo comprendendo tantissime tantissime cose ora qua vi faccio vedere alcuni scienziati senza nulla togliere ovviamente ai relatori di oggi però per esempio questa è Stefania Tosi forse la conoscete una storica storica saggista che in un suo libro scrive dai sumeri agli egizi dai greci ai romani gli uomini condividevano una comune convinzione che gli dei si occupassero di loro in questo mondo e anche lei è d'accordo sul fatto che questi dei non erano entità astratte non erano diciamo quello che poi diciamo ci propinano le religioni ma erano delle entità concrete sulla terra bene qua Mauro Biglino ovviamente non ha bisogno di presentazioni lo conosciamo benissimo e lui scrive una cosa molto importante proprio nel libro resi umani che abbiamo fatto insieme la superiorità degli Elohim Elohim l'abbiamo detto prima sono queste sorte di divinità che l'antico testamento li chiama così sulle mandrie umane perché di questo si tratta mandre umane che venivano trattati come mandre umane così come un po' oggi la cosa è un po' è la stessa identica cosa è palese in ogni ambito descritto dei testi biblici è quasi inevitabile che gli schiavi li considerino onnipotenti e dunque accettino e subiscono in modo inconsapevole domesticazione e conseguente ammaestramento culturale come elementi assolutamente naturali ok quindi è logico una volta che hai una presenza superiore come fanno gli animali nei confronti dell'uomo si sottomettono ok benissimo e poi si va sulla scienza come dicevo prima alcuni biologi stanno cominciando a uscire fuori con tutta una serie di informazioni a mio avviso molto interessanti questo è il professor Marco Ragusa che è docente biologo e docente di genetica all'università di Catania che scrive forse a un certo punto della storia del nostro pianeta la natura ha smesso di seguire le sue regole adottando processi il cui significato non conosciamo ancora o forse il processo evolutivo di Homo sapiens nulla ha a che fare con la natura ed è invece assimilabile a un fenomeno indotto controllato la cui considerazione apre la strada a pensieri inquietanti che metterebbero in discussione la natura stessa della nostra specie è difficile per uno scienziato andare a scrivere queste cose specialmente un accademico ok però io apprezzo l'onestà Pietro farei un applauso esattamente ok oggi tutte le informazioni che noi abbiamo sulla domesticazione ci provengono fondamentalmente da un esperimento che è cominciato negli anni 50 e che ancora oggi prosegue che mese in piedi questo genetista russo Dimitri Belayev Belayev che cosa fece? volle studiare il fenomeno della domesticazione perché dobbiamo studiarlo dobbiamo tirare fuori delle regole cosa comporta cosa non comporta e allora prese una specie selvatica la volpe siberiana una specie selvatica assolutamente aggressiva schiva insomma come sono le specie selvatiche o è giusto che siano e cominciò a immettere queste degli esemplari in un ambiente di domesticazione che vi ho parlato prima cioè un ambiente fatto apposta in modo che questi esemplari potevano riprodursi in questo ambiente sotto la sorveglianza ovviamente dell'uomo che ne gestiva gli accoppiamenti ok quindi solo soggetti più ritenuti più idonei potevano accoppiarsi quelli ritenuti meno idonei per alcune caratteristiche di interesse non venivano diciamo inseriti nei programmi di accoppiamento questo fatto sì che queste volpi nel tempo acquisissero tutta una serie di caratteristiche attenzione la prima cosa questo è importante la prima cosa che abbiamo acquisito da questo esperimento è che l'uomo quando va a domesticare una specie selvatica non lo fa per cambiargli l'aspetto ma fondamentalmente lo fa per cambiargli il comportamento ok quindi il comportamento è la prima cosa e la specie selvatica quando comincia a diventare domesticata comincia a tirare fuori tre elementi che sono questi qui mansuetudine assoggettamento e obbedienza sono le tre caratteristiche che bisogna avere che la specie addomesticata deve sviluppare come comportamento vi ricorda qualcosa e resilienza ok la mansuetudine ovviamente che cosa significa devo abbassare l'aggressività della specie la specie deve essere mansueta non deve essere aggressiva perché altrimenti io non la posso gestire quindi deve essere mansueta devo abbassargli l'aggressività e questo già è un primo elemento assoggettamento deve essere assoggettata a me cioè deve riconoscere l'essere umano come una figura dominante e obbedirmi ok questo è questo è si mette a ridere perché evidente ovviamente i parallelismi sono diciamo neanche sto a dirli ok ovviamente sono tutte caratteristiche che anche noi la nostra società ha a pieno quindi capite come quando vi dicevo all'inizio dobbiamo stare attenti quando parliamo quando vediamo certi comportamenti perché è possibile che questi comportamenti abbiano un'origine molto profonda nella nostra biologia quindi queste sono diciamo le tre caratteristiche che poi vengono sfruttate per gestire la moltitudine e attuare sistemi di controllo delle masse se poi inseriamo anche l'istinto primordiale della paura allora si viene a creare un mix micidiale un mix micidiale che dà origine al fenomeno conosciuto come istinto di greggio l'istinto di greggio è quel fenomeno secondo il quale la società tende a comportarsi tutto in un unico tutto allo stesso modo indipendentemente se quel modo è giusto oppure no ok proprio come fanno i greggi ora l'istinto di greggio ovviamente la base per cui dobbiamo ottenere l'istinto di greggio sono ovviamente queste caratteristiche che la fanno da padrone e ovviamente oggi noi abbiamo una obbedienza oltre misura verso più che il sistema utilizza ovviamente che cosa per entrare in tutte le case e quindi avere una più ampia diffusione non si fa più come un tempo che si riempivano le piazze ma abbiamo uno strumento che abbiamo in tutte le case perché non sfruttarlo giusto la televisione i media costituiscono il mezzo più potente immediato per orientare l'opinione pubblica all'occorrenza quindi non sempre ma all'occorrenza diventano i sistemi in grado di diffondere propaganda paura e fattori stressogeni che faranno presa sulle nostre innate caratteristiche da specie domesticate bene allora qui ho ancora un po' di tempo allora qui vi spiego un po' entriamo un po' più nel dettaglio sono tutte cose che trovate nei libri ma voglio farvi vedere come c'è una base proprio biologica biochimica alla base di tutto questo cioè dire questi studi sono sempre inerenti a quelli che dicevo prima sulle volpi domesticate che ci hanno fatto capire molte cose sulla domesticazione benissimo che cosa significa quando noi andiamo a domesticare una specie creiamo nella specie tutta una serie di modificazioni a livello genetico cioè facendo gli accoppiamenti quindi intervenendo sugli accoppiamenti queste specie cambiano la loro genetica e cambiano la loro biologia ok cosa succede succede che queste specie produrranno rispetto alle specie selvatiche producono più glucocorticoidi i glucocorticoidi sono una serie di ormoni molto importanti perché possono fare due cose uno intervenire sul processo di embriogenesi quindi durante lo sviluppo embrionale per far cambiare le caratteristiche dell'animale e questo è quello che succede nelle specie domesticate noi selezioniamo per i comportamenti che vi ho detto nel frattempo l'animale cambia le proprie caratteristiche anche estetiche seconda cosa i glucocorticoidi agiscono direttamente sul cervello creando quelle condizioni quindi la predisposizione verso quelle condizioni che vi ho elencato prima quindi minore aggressività abbassamento dell'aggressività aumento della socievolezza maggiore assoggettamento e obbedienza quindi tutte le specie domesticate hanno un livello di glucocorticoidi superiore rispetto alle specie selvatiche che invece sono meno propense poi a tutto questo che vi sto spiegando quindi questo per farvi un po' così rapidamente il discorso sui glucocorticoidi bene come vedete qui c'è ormai un'ampia letteratura scientifica a supporto di studio sulla domesticazione perché stiamo vedendo tante cose sia sull'uomo che sugli animali stiamo capendo tante cose e io che seguo questo tipo di studi vi assicuro che sono affascinantissimi e come vedete le applicazioni alla nostra società ci sono e mi stupisco come mai invece non ci sia nessun riscontro a livello scolastico cioè io 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 ve lo dico questo perché ho pubblicato dei video su youtube dal titolo domesticati sono dieci video ora voi vi farò vedere dove trovarli e molto spesso questi video sono stati visti da studenti che mi scrivono dicendo ma dottor Buffa noi stiamo facendo l'evoluzione umana quello che lei dice è bellissimo affascinante noi stiamo studiando l'evoluzione umana ma la nostra professoressa non ci fa accenno sulla domesticazione sulla neotenia su queste cose che sta dicendo lei e quindi che cosa significa e io che gli devo rispondere cioè non non cioè il processo più importante il processo più importante che come state vedendo ha forgiato l'umanità nei suoi comportamenti nel suo aspetto perché poi c'è tutta la questione riguardo l'aspetto e le caratteristiche che Homo sapiens ha quindi praticamente andiamo sulle facoltà cerebrali sono tutte cose collegabili alla domesticazione che però ovviamente questa non è la sede per approfondire queste cose ma è il processo più importante ora se noi dobbiamo per forza richiamare la selezione naturale di Darwin va bene allora tutto così si passa da A a B da B a C non si sa quello che è successo e come sono saltate fuori certe certe caratteristiche e questo lo trovo molto triste perché gli studenti hanno voglia una volta che vedono queste cose hanno voglia di approfondire e che debbano approfondire attraverso i miei libri e non attraverso quelli che hanno a scuola lo trovo quantomeno un po' triste comunque concludo su youtube trovate Pietro Buffa official il mio canale trovate questa serie di dieci video dove che si chiama domesticati dove io spiego un po' più in dettaglio tantissime cose che qui ovviamente per motivi di spazio non possiamo toccare questo è il libro che il primo libro che ho scritto che introduce a questi temi quindi i geni manipolati di Adamo che adesso è diventato bestseller ha una versione in lingua inglese che è stato da poco pubblicato e quindi andiamo a portare queste informazioni vediamo che succede fuori dall'Italia vediamo cosa succede e poi c'è la pagina facebook i geni manipolati di Adamo per chi volesse volesse seguirmi grazie per l'attenzione grazie 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 veramente